Ciao a tutti da Saludatore, grandissima sorpresa, mi trovo qui con un grandissimo, mi trovo con Fab Magie Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale del Saludatore salutatelo quando lo vedete, mi raccomando, la maglia tutta ok e ovviamente iscrivetevi alle tue pagine, dici quali sono le tue pagine basta iscrivetevi al canale di Saludatore, su YouTube, Facebook, Instagram, quello che volete e niente, passate, mi raccomando, il canale questo qua lo trovate in descrizione, è tuo, apporto ecco, grande Fabio Magie, ho una sorpresa per te, la manina del Saludatore come fai? Ecco qui, questa è per te, e certamente, saluti tutti i tuoi fans, ciao